I campi di grano sono stati in gran parte già trebbiati e con grande soddisfazione gli agricoltori tirano un sospiro di sollievo. Nell'entroterra anconetano, in zona Vallesina, nulla a che vedere con il periodo nero della scorsa annata. In questo 2024 la stagione è stata favorevole e ha anticipato anche i tempi. Il grano duro è di qualità. Abbiamo una produzione buona, in confronto all'anno precedente ottima, buone quantità e ottime di qualità, perché abbiamo un peso specifico superiore ai 79-80 peso specifico e proteine dai 12, 13, 13 e mezzo, arriviamo anche a 14 proteine. Quindi un grano sano e buono. Segno positivo anche per la resa media. L'anno scorso nella nostra azienda abbiamo avuto rese che si avvicinavano ai 40 quintali lettero. Quest'anno invece nella nostra azienda abbiamo delle rese dai 60, qualcosa anche meglio di 60 quintali lettero, ma nella zona si aggira intorno dai 50 ai 60. Abbiamo visto anche aziende agricole che hanno prodotto anche su determinati terreni anche quasi 70 quintali lettero. Non solo il meteo dalla parte degli agricoltori, ma anche il lavoro da loro fatto dalla semina alla trebbiatura. Ciò che manca per dare il giusto valore a tutto ciò è l'ultimo importante tassello, il prezzo. Ancora non hanno fatto i listini prezzi della zona nostra che è riferimento Bologna, prezzo Bologna, però ecco qua ci aspettiamo anche un buon prezzo. Non so quanto, però deve essere un buon prezzo che è assolutamente superiore ai 30-35 euro a quintale.